bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo 941 e oggi siamo tornati sulla maullo craft signori miei con il nostro bellissimo arco che non serve a nulla perché non c'ha né infinità né niente con il nostro monte pollo alle spalle con tutte quante lambradante le costruzioni non perdiamo tempo cosa facciamo in questo video oggi ragazzuoli allora nel video di oggi andremo a costruire il portale del nether perché dal prossimo episodio io installerò salvando il mondo in maniera tale che non mi si distrugga tutto come l'ultima volta e andremo a installare l'aggiornamento della 1.16 che non è ancora quella definitiva ma è un aggiornamento praticamente della versione 1.16 e andremo nel nether raga perché ciò voglio andare a vedere il nether come è fatto tutti i vari aggiornamenti che stanno buttando dentro perché già su youtube c'è il mondo praticamente quindi ci andiamo anche noi dove faremo il nostro portale il nostro portale nether lo faremo l'ha incastonato nella grotta praticamente in una grotta carina e carina ho visto un design che mi piace quindi prima cosa da fare prima cosa da fare senza perdere tempo e dobbiamo costruirci un bellissimo piccone di diamante andare a recuperare tutta l'ossidiana che ci serve e ci serve tanta per fare questo questo portale che voglio fare io perché ci servono almeno più di 30 passablocchi praticamente quindi scendo giù in miniera vado a recuperare tutta l'ossidiana che ci serve non ne abbiamo due solamente due pezzi a casa due pezzi non ci facciamo nulla andiamo in miniera recuperiamo tutta l'ossidiana che ci serve e ci vediamo quando poi ritorno qui in superficie che ovvero potrò 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 che potrò praticamente e inizia la costruzione detto questo ragazzoli recupero l'ossidiana circa un più di 30 blocchi e ci vediamo nuovamente qui sento degli scheletri quindi prepariamoci con la spada non li sento più mi sento ancora non li sento più perfetto meglio così qua avevo lasciato qualcosa io a cuoce no va bene andiamo a recuperare l'ossidiana raga se non sbaglio qui ci dovrebbe essere ancora un bel po dimmi che c'è ancora un bel po si c'è tutta quella che vogliamo iniziamo a recuperare l'ossidiana raga ok ragazzoli abbiamo recuperato i nostri 30 pezzi di ossidiana ora fuori e notte quindi andiamo velocemente a casa a dormire sperando che non sponi nessuno scheda se non il nostro gino secondo è morto però quindi velocissimamente andiamo verso casa ok andiamo a dormire e poi iniziamo la costruzione del nostro della nostra caverna che conterrà il portale anche ragazzoni dico troppo spesso ragazzuoli impressionante ok ragazzi allora più o meno la nostra ginevivo sì allora il nostro portale sarà in quella direzione quindi tutte queste cister palle non ci servono via tutte cister palle brutte allora perché nella zona effettivamente dobbiamo prendere un attimino la misura ah io già qua qualcosa avevo preso sì però mi serve una pala brutto zoticone senza una pala non possiamo fare il nostro sentiero di riferimento che poi ovviamente andremo a cambiare raga mi serve semplicemente una pala per avere un sentiero di riferimento tutto qua allora mettiamo la posta di questi mini che non ci servono allora vediamo un attimino di prendere le misure giuste le misure giuste io qui avevo messo questo blocco perché il portale lo potevamo fare massimo qui mi posso allargare un altro po con un po di terra penso di sì quindi allarghiamoci un altro pochino così intanto le canne non diamo fastidio alle canne ok non c'è più tanto il passaggio ma non ci interessa quindi facciamo che la sua portale arriva fino a qua ok poi sentire lo andremo a modificare raga non vi preoccupate non vi preoccupate quindi allora la nostra apertura della grotta la possiamo fare di intanto dovrebbe essere tutta lineare l'apertura della grotta no non deve essere così quindi andiamo un attimino a levare questo di qua nostra apertura della grotta la potremmo fare così non è che mi ispiri più di tanto però va bene va beh intanto iniziamo a entrare in profondità così vi illustro più o meno come come sarà architettato allora andiamo avanti di almeno qualche blocco perché un po di spazio ci deve essere sperando che la montagna ecco appunto perfetto che cosa bellissima io speravo che non ci fosse questo ma invece c'è questo c'è l'acqua e noi l'acqua può servire l'acqua può servire potremmo fare non è brutta come cosa una sorta di ponticello che ci porta al portale non è brutta come cosa una sorta di ponticello che ci porta al portale no non è brutta come cosa e quindi andare a fare il nostro portale qui per ora metto la terra raga per ora metto la terra il nostro portale sarebbe qui praticamente andiamo un poco più avanti no qui già è finita la montagna è finita qui no ma che mi prendi in giro ma mi stai a prendere in giro la montagna è finita e dove cazzo non lo faccio il portale allora no cambio di programma ragazzo il nostro portale sarà molto prima sarà molto prima vado a modificare tutta questa zona e qua ci vediamo quando ce l'ho pronta raga ok ragazzoli abbiamo praticamente aperto tutta quanta la zona tutto l'abbiamo sistemato tutto abbiamo chiuso qui tutto la parete che dava sull'acqua qui abbiamo chiuso tutta quanta l'acqua ora io andrò a sostituire tutta quanta questa pietra perché voglio mettere questa pietra così in modo tale che il nostro portale per come dovrà essere disegnato si andrà a camuffare perfettamente con tutto il resto dell'ambiente ora c'è un piccolissimo problema che mentre stavo a costruire si è presentato sento degli strani rumori ora vorrei evitare che sponasse gente particolare quindi facciamo una cosa ne ha veloci sente a dormire sento dei degli insulti particolari quindi facciamo una cosa dormiamo così non dovrebbe sponare gente cattiva e anche perché gente cattiva già c'è che mi stavo aspettando quindi dormiamo velocemente al risveglio andiamo a uccidere i pillager che non so dove siano signori miei questa cosa mi fa paura no no mi hanno ucciso no mi hanno ucciso gino 2 raga mi hanno ucciso gino 2 mai non posso vivere così non posso andare avanti così raga non mi possono uccidere tutti quanti gino no no ma perché dove gino no mi hanno ucciso gino raga abbiamo perso gino secondo abbiamo perso gino secondo signori miei abbiamo perso gino secondo è rimasto solamente un pezzo di di neve di gino un pezzo di neve no guarda dove sono arrivati pillager c'è credo che mi hanno ammazzato gino guarda si sono fatti tutti si sono circonnavigati tutta quanta la mia isola mannaggia a loro mannaggia a loro andiamo a uccidere raga andiamo a uccidere questi questi bastardi che mi hanno ucciso gino 2 gino 2 ti vendicherò io ti vendicherò io gino 2 gino ti vendicherò io ti vendicherò io gino mannaggia a voi mannaggia a voi mannaggia a voi mannaggia alle vostre mamme mannaggia alle vostre mamme mi stanno ammazzare mannaggia alle vostre mamme questi mi stanno ammazzare no zio dovresti mangiare. Ok, stiamo calmi, stiamo calmi che mi stanno ammazzare. Mannaggia, le vostre mamme e mamme stanno ammazzare. Aspetta, fermi tutti, fermi tutti. Abbiamo scelto la tattica sbagliata. La vendetta istantanea non è la soluzione migliore. Bastardo, hai ucciso Gino 2. Pagherete, pagherete per questo affronto, pagherete, pagherete, pagherete. Hai ucciso Gino 2. Hai ucciso Gino 2. Non ci posso credere, abbiamo perso Gino 2. Non abbiamo preso nemmeno una balestra. E che vi devo dire, abbiamo perso Gino 2. Dovremo trovare una soluzione perché non possiamo andare avanti così, non possiamo fare 70.000 costruzioni, 70.000 tombe di Gini praticamente, quindi dovremo trovare un attimo una soluzione. Prometto che andremo a costruire un altro altarino per Gino 2, signori miei. Gino 2. Va bene, va bene, va bene. Ora, cortesemente, ritorniamo un attimino al magazzino. Ah, non ci posso credere. Era solo avvissuto il nostro Gino 2, ma non siamo riusciti a... Niente. Mi dispiace, Gino. Un minuto di silenzio per Gino, signori miei. Fatelo tra voi e voi un minuto di silenzio. Allora, stavo dicendo che... Allora, il nostro portale più o meno avrà queste dimensioni, signori miei. Lo incasseremo ora in questa roccia di qua, in questa zona di qua, andremo a mettere tutta quanta l'ossidiana. Ora metterò un... Farò un attimino una prova. Dopodiché piazzeremo assieme l'ossidiana. Ok, signori miei. Allora, iniziamo a piazzare l'ossidiana, signori miei. Iniziamo a piazzare l'ossidiana. Sarà un bel po'... Un bel lavoro da fare. Speriamo di non sbagliare perché non c'ho voglia di... Ecco. Come sbagliare praticamente? Io ma questa come... Vabbè, lo metteremo dopo. Lo metteremo dopo. Sono stato scemo, ho messo quelli più in alto e mi sono scordato di mettere prima quello a chiudere sopra la mia testa, praticamente. Va bene, va bene. Ok. Questo così, questo così. Vediamo se la sopra riusciamo a metterlo così. Perfetto. La riesce a metterlo. Vediamo se non sbaglio perché non c'ho voglia di bucare ancora. Ok. Perfetto, signori miei. Il nostro portale è fatto. Il nostro portale è fatto. Ora noi dobbiamo... Dobbiamo mettere tutta quanta un primo... Il primo strato di pietra. Lo mettiamo qui così. In modo tale da coprire tutto quanto il nostro portale. Ok. Chiudi lì. Chiudi, 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 chiudi. Ok. Così abbiamo praticamente oscurato il nostro bellissimo portale. Dopodiché... Dopodiché dobbiamo fare tutta quanta la decorazione. Per fare la decorazione ci servono tantissimi scalini. Quindi piazziamo un attimo una crafting table qua. Facciamo una botta di scalini, signori miei. Una botta, una botta. Quattro mi bastano. No, penso di no. Venti mi dovrebbero bastare. Forse sì. Mi serve anche l'altra pietra per continuare a camuffare tutto quanto a lambardà. Detto questo, ragazzuoli... Ok. Allora, detto questo dobbiamo mettere un primo gradino qui così. No. E già abbiamo sbagliato. Primo colpo è andato a vuoto. Primo grave errore. Allora. Uno, due, tre. Quindi qua questo così e questo così. Ok? Ok. Poi dobbiamo fare lo stesso discorso qui. Quindi dobbiamo mettere un gradino. Uno, due, tre. Così. Ok. E uno dovremo metterlo in quella stessa direzione. Aspettate un attimo. Intanto mi metto questo che è facile. Ok. Stesso discorso qui. Cinque. Quindi dobbiamo metterne uno di qua. Che non me lo farà mai mettere nella vita. Mettiamolo così. Uno di qua. E uno di qua. Ok. Ok. Dopodiché mi dai la terra. Grazie, zio. E me lo devi mettere. Allora. Intanto mi devi mettere un altro gradino qua così. Così. Un altro gradino qua così. Perfetto. Poi con la terra saliamo sopra. sali, 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 sali. Me lo devi mettere. Intanto un altro qui. No, non così. Molto scemo. Non ti ho detto di metterlo così. Me lo devi mettere. Non me lo devi mettere così. Mamma mia che cosa. Antipatica. Me lo devi mettere. Oh, così. Così. E poi me lo devi mettere. Metti un blocco di terra qui e mi metti un gradino. Qui così. così. No. C'ho il problema di mettere i gradini, raga. Così. No. Me lo devi mettere al contrario, zio. Quindi dobbiamo andare da questo lato. Io proprio sto scemo. Me lo devi mettere i gradini. Ok. E questo me lo levi. Scendiamo giù, signori miei. Za, 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 za. No. Questa dobbiamo levarla dopo. Vedete come sta avvenendo, raga? Vedete mettere un gradino. Cortesemente evite di casca qua. Perfetto. Poi mi metti un blocco di terra qui e mi metti l'altro gradino. Qui. No. Mi mette qui. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Scendiamo giù con la nostra bellissima pala. Perfetto. Recoveriamo un attimo qua i gradini. signori miei. Ok, signori miei. Questo pezzo di palla si può levare. E il nostro bellissimo portale, più o meno. Ma questa cosa qui è insopportabile. Il nostro bellissimo portale è fatto, signori miei. Dai, è particolare, è particolare. Ora vedremo di... Nel prossimo episodio lo accenderemo. Camufferemo tutto quanto, sistemeremo tutto quanto qua, tutto di pietra. Così verrà proprio tutto unico l'ambiente. E dopodiché abbeliremo tutto quanto dalla zona. Detto questo ragazzi, per questo video vi ringrazio della visione. Vi ringrazio per i like, per i suggerimenti che mi darete. Ci vediamo prossimamente. Ci vediamo domani con un prossimo video. Bella raga. Ciao!